Buona settimana cari amici, parliamo di Serie A in questa occasione. Insomma, la sfida della domenica sera ha regalato all'Inter una grande vittoria 3-0 in casa del Napoli. Oltre ai successi del Milan sul Frosinone, pareggio del Lecce in casa contro il Bologna, pareggio pirotecnico tra Udinese e Verona 3-3, la vittoria della Roma a Sassuolo, la Fiorendina a Netto 3-0 contro la Sarnitana, vittoria della Lassi in casa contro il Cagliari, pareggio del Genova 1-1 contro l'Empoli e la vittoria di venerdì della Juventus a Monza. Quindi per quanto riguarda la classifica, al momento Lindermandino alla testa della vetta con 35 punti, la Juventus a 6 secondi, con 33, Milan terzo a 29, Roma a 24, Napoli a 24, Cagliari a 23, Bologna a 22, Matalanda che gioca stasera a Torino e a Quattavendi potrebbe andare in caso di vittoria. Monza 23, Lazio 20, Monza e Frosinone 18, Torino 16, Lecce 16, Genova 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Impoli 11, zona retrocessona, Verona, Cagliari 10, Sarnitana 8. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!